Cara Irene, sai molto bene come io sei una frana nel ricordare date e ricorrenze. E lo devo ammettere, più volte mi hai dovuto ricordare che era proprio il 5 agosto, il giorno in cui tre anni fa mi concedevi il nostro primo appuntamento. Ricordo come quel 5 agosto abbia dato via alla nostra frequentazione alla nostra convivenza e a tutto il tempo fin qui trascorso la sfida. Tu sei il mio equilibrio e la persona che mi completa esaltando il meglio di me Tu sei il mio sostegno che mi aiuta a farcela quando sono in difficoltà Tu sei la mia casa, dovunque stiamo e saremo Tu sei la persona perfetta per realizzare tutti i miei sogni Ti prometto che non darò mai nulla per scontato che sarò il tuo fianco nei momenti di gioia per ridere assieme e che sarò la tua roccia in tutte le difficoltà Ebbene Irene, mi hai fatto innamorare già da quel primo giorno per l'appunto da quel 5 agosto Ebbene 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 Io Grazie a tutti